La 31esima edizione nazionale del premio TOIP, ambito riconoscimento che la Junior Chamber International assegna ai giovani talenti under 40, quest'anno è stato caratterizzato da una sorta di filo verde che accomuna ai vincitori nell'attenzione alla sostenibilità. Sono così stati premiati nel corso della cerimonia che si è svolta nella sede di CompCommercio, Bustarsizio Mediolona, alla presenza delle autorità civili, economiche e associazionistiche, Niccolò Comerio, Silvia Primi, Erika De Matteis e Michele Tovaglieri, tutti già candidati di diritto all'edizione internazionale. Anni difficili e problematici per le nuove generazioni, nelle quali GCI crede e alle quali vuole offrire opportunità, come sottolinea la vicepresidente internazionale, Alexandra Botos. Specialmente in questo momento, dopo quello che è successo in cui i ragazzi non sanno veramente che cosa vogliono, di cosa hanno bisogno, GCI può offrire loro il contesto in cui possono scoprirlo mettendosi in gioco. In che modo? Il modo in cui i ragazzi possono avere tutto questo è dandosi da fare, rimboccandosi le maniche. GCI ti può offrire il contesto, ma poi sei tu che ti devi dare da fare attraverso dei progetti. Progetti per la tua comunità, per migliorarla. Progetti per sviluppare una mentalità imprenditoriale, quindi per migliorare il tuo contesto lavorativo e più in generale l'economia attorno a te. Opportunità internazionali e quindi crearti un network anche in altre nazioni e poi sviluppare tutte quelle skills, quelle capacità che ti possono permettere di essere migliore. Viene dunque spontaneo chiedersi come GCI riesca a trovare nuovi talenti in un periodo così complesso, che vede i giovani sempre più smarriti nel ritrovare se stessi e quindi spesso poco motivati. Fortunatamente ci sono ancora giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, fare e soprattutto dare alla propria comunità, comunque al proprio territorio, quello che hanno appreso durante il loro percorso. Quello che facciamo noi per trovare questi giovani è cercare all'interno delle varie notizie che possiamo trovare online, piuttosto che determinate riviste o anche conoscenze perché spesso arrivano anche da lì, comunque dal passaparola, e quindi si va a valutare il percorso fatto da questi ragazzi, che cosa hanno raggiunto e cosa che possono portare, ma l'obiettivo principale è far sì che comunque le loro storie siano un segnale positivo, comunque una dimostrazione positiva che ci sono ancora giovani che hanno voglia di fare e quindi che siano un po' da stimolo per tutti gli altri. Quest'anno abbiamo selezionato quattro giovani talentuosi nella categoria business Niccolò Comerio, nella categoria cultura la poetessa Silvia Primi, nella categoria ricerca Erika Michela De Matteis e infine nella categoria crescita personale il formatore Michele Tovaglieri. Conosco il premio TOIP da quando è nato nel 2000 e come presidente di Varese JCI l'ho organizzato per due anni, quindi lo conosco molto bene, devo dire che è un'ottima iniziativa a supporto di giovani talenti del territorio da una parte, ma dall'altra è un ottimo strumento per aiutare i giovani ad organizzare il premio TOIP e quindi a imparare delle skills nuove che poi nella vita potranno sicuramente venire utili magari in altri ambienti sia professionali che associativi. Ed ora sentiamo dai protagonisti le personali reazioni alla notizia dell'assegnazione del premio. Quando mi hanno comunicato di avere ottenuto, di avere vinto il premio, diciamo da un lato lo speravo, da un lato era inaspettato, perché lo speravo? Perché ritengo che servano energie giovani che possano, soprattutto nell'ambito della ricerca scientifica e della ricerca accademica, che possono un po' cambiare il corso degli eventi. Nel mio piccolo, tutta la mia ricerca scientifica è evocata a promuovere un nuovo modello di sviluppo del settore turistico più improntato alla sostenibilità e all'attenzione per l'ambiente sociale, quindi speriamo che questo premio, insomma, questo riconoscimento possa servire per lanciare questo messaggio forte anche in provincia di Varese. Quando ho ricevuto l'annuncio di questo premio, di questa occasione, ero in realtà a Parigi, nella finale, quindi nella chiusura del progetto europeo per cui ho contribuito per diversi anni ed essere candidata quindi come vincitrice alla categoria ricerca mi ha scatenato veramente tantissime emozioni di felicità e anche di, come dire, una prova ulteriore di quanto potesse avere valore il mio ruolo nella ricerca, sia per quello che abbiamo sviluppato ma anche per la società. Il settore della mia ricerca è la scienza dei materiali e la chimica, abbiamo infatti sviluppato diversi materiali innovativi per lo stoccaggio dell'energia. Nello specifico sono delle leghe metalliche appositamente studiate con degli elementi che permettono di assorbire allo stato solido l'idrogeno e questo permette di immagazzinare in un modo molto sicuro e appunto con delle efficienze abbastanza alte l'idrogeno per applicazioni principalmente stazionarie ma che potrebbero essere anche utilizzate nel campo delle automobili o comunque della mobilità. Questo premio per me è un grandissimo riconoscimento, è un grandissimo onore, non me l'aspettavo, veramente sono molto emozionata e sono contenta che appunto la mia storia, le mie poesie e i miei riconoscimenti siano arrivati fino a qui dopo tanti sacrifici, è veramente bello vivere questo momento. È un'emozione quando mi hanno avvisato di questa vincita, per di più in una categoria a me molto sentita crescita personale, l'ho sentita veramente una crescita personale, una crescita personale perché da quando ho circa 13 anni che sono nel mondo della comunicazione e negli ultimi 5 anni sto lavorando tanto per abbattere un analfabetismo comunicativo che sta dilagando soprattutto tra i giovani e vedere questo premio, questo riconoscimento è un'emozione proprio perché gratifica per tutto quello che si sta facendo, che sto facendo ed è una spinta a progredire e a proseguire in questo. La digitalizzazione e la tecnologia adesso di recente, l'intelligenza artificiale che sono strumenti fantastici che aiuteranno tantissimo, l'uomo non devono tuttavia impoverirlo sotto altri valori. E tre elementi, anzi oserei dire, fondamentali per la comunicazione ed è quello che io porto avanti. Non è tanto insegnare l'arte della retorica, l'arte del parlar bene, non è Cicerone che porto, bensì è l'arte del rispetto, dell'ascolto e del valorizzare l'interlocutore. Solo con questi strumenti che sono basilari ma non così ovvi, davvero allora si potrà superare quello che è questo analfabetismo e questa anche paura che nasce dalla comunicazione, che è molte volte una paura del giudizio. Se invece c'è rispetto, il giudizio non ci sarà. La parola passa ad Alberto Rivolta, presidente del Lions Club Busto Host, con il quale JCI porta avanti da anni la manifestazione. Il mio club, il club appunto di Busto Host ha sempre sostenuto il JCI fin da 21 anni fa, dall'inizio. Abbiamo sempre partecipato aiutando l'associazione a trovare i giovani che meritino di essere premiati nei loro campi di interesse e anche sempre nella speranza che ciò possa garantire un futuro migliore anche ai miei vecchi. Sentiamo ora l'esperienza di Cole che ha vissuto l'organizzazione di questo premio negli anni. Chiara Milani, figura fondamentale nell'ambiente JCI. Sì, avendo avuto la fortuna, l'onore di presiedere ormai dieci anni fa JCI Junior Chamber International a livello internazionale, ben conosco il premio TOIP, 10 outstanding young persons per i giovani talenti. E devo dire che è sempre un piacere partecipare alla cerimonia di premiazione in tutto il mondo e tanto più nella mia provincia di Varese, dove peraltro l'ho visto nascere ormai 21 anni fa. È un piacere perché davvero ogni anno si scoprono dei ragazzi in gamba e naturalmente ai premiati di quest'anno vanno i miei complimenti, ma anche perché si vede l'impegno di tanti altri giovani che sono volontari e che si danno da fare per far sì che questa cerimonia possa avvenire, affinché questi ragazzi siano da esempio positivo per i propri coetanei. Sicuramente quello che io posso dire per la mia esperienza è che JCI è un'associazione unica. Esistono tantissime organizzazioni fantastiche anche sul nostro territorio, ma un'organizzazione non governativa che dia opportunità di crescita personale, professionale e sociale ai giovani tra i 18 e i 40 anni a livello locale, nazionale e internazionale, beh è difficile trovarla. Quindi davvero il mio invito a coloro che in questo momento ci stanno seguendo, se sono in quell'età, se hanno figli di quell'età o magari nipoti, amici, è di contattare la sezione provinciale, in questo caso Varesina dell'ONG, perché così si possono dare un'opportunità di crescita per migliorare se stessi e quindi migliorare anche la propria comunità. Come? Beh sicuramente a livello personale, perché ci si mette in gioco con vari progetti, oltre che seguendo corsi di formazione e organizzando eventi, e quindi un domani può sempre servire anche, chissà, nell'età adulta diventando mamma o papà. E poi a livello professionale naturalmente, perché che si sia giovani manager, imprenditori, professionisti, insomma tante sono veramente le skills, le competenze che si possono acquisire. Ben lo sanno anche il presidente provinciale, oltre che Bustocco di ConfCommercio, oltre che l'immediate past president della Camera di Commercio Varesina, così come tanti altri esponenti del mondo dell'economia locale, che da giovani sono stati soci JCI. E poi a livello sociale, perché magari un domani si andrà a far parte di un'altra associazione, si sarà in un consiglio direttivo di un'organizzazione di volontariato, culturale, piuttosto che sportiva, e si saprà già come funziona. E quindi perché non darsi questa opportunità? Non serve essere Superman o Wonder Woman, tranquilli, basta essere dei giovani intraprendenti, che hanno voglia di darsi la fare, ricordandosi che, come ha detto il sindaco di Bussarsizio, Emanuele Antonelli, i ragazzi non devono essere soltanto social, ma anche sociali, e che la vita sociale non si esaurisce nel prendere un aperitivo assieme, ma nel fare assieme qualcosa per la propria comunità. Ora, io mi rendo conto che nell'epoca dei social, del tutto e subito, dei like, e quindi del pollice alzato o verso sui post, chiedono ai ragazzi di impegnarsi, non dico a lungo, ma insomma almeno a medio termine, possa sembrare quasi stravagante. Però sappiamo che nessun risultato di valore arriva senza un po' di impegno. E quindi davvero, ragazzi, se siete all'ascolto, datevi questa opportunità, questo passaporto per il mondo, essendo GSI presente in oltre 100 nazioni, ma anche questa opportunità di crescita. Siate dei giovani intraprendenti. Finisce così la premiazione TOEIP 2023 e gli organizzatori già pensano alla prossima edizione. L'invito che faccio quindi ai nostri ascoltatori è quello di avvicinarsi a questa associazione che offre tante opportunità, di contattarci scrivendo a Varese, chioccio alla GSI Italy.org e noi siamo a disposizione per postare a loro quello che possono anche creare nel territorio.